Bella a tutti quei Triface che vi parla e sicuramente vi sarà capitato di aver bisogno degli Endo, vediamo insieme qual è il modo migliore nel 2024 di farmarli. Uno dei modi più semplici è sicuramente quello di estrarre gli Endo dalle copie delle nostre mod, infatti più copie avremo più possibilità avremo di estrarre Endo. Un altro metodo è quello di estrarre gli Endo invece dalle statuine Ayatan, vi ricordo trovarsi all'interno delle varie missioni e c'è la possibilità di trovarle anche in ogni singola missione, altrimenti c'è un altro metodo. Vi ricordo che su Marte nel Bazar di Maru, da questo NPC sarà possibile attivare la missione settimanale Sto cercando Tesori Ayatan che al suo compimento vi garantirà una statuina. Il modo più redditizio che io preferisco è sicuramente quello di andare nelle allerte e andare in arbitrato, infatti arbitrato sarà una missione a rotazione, quindi potrebbe essere una sopravvivenza, una difesa, un'intercettazione e così via, che a ogni round vi garantirà degli Endo o una statuina Ayatan, questo vuol dire farmare in quanto tempo volete quanti Endo e statuine volete. Un altro metodo è quello di partecipare alle taglie di Fibonacci, vi ricordo trovarsi all'interno dei demos, dovrete fare tutta la storyline, e una volta compiuta la missione taglia sarà possibile ottenere 4000 Endo, ma non garantiti. Anche oggi abbiamo terminato, come sempre vi ringrazio della visione, ci becchiamo alla prossima, ciao a tutti!